Buonasera cari telespettatori, benvenuti allo spazio dedicato agli approfondimenti dopo il nostro telegiornale. Come di consueto in questo periodo affrontiamo le tematiche elettorali, conosciamo i candidati e questa sera dobbiamo dire che abbiamo il piacere di ospitare, come già abbiamo fatto in passato, uno dei candidati a sindaco per queste amministrative 2019 per la città di Fano, il candidato della coalizione di centrodestra, Lucia Tarsi, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie Lino per l'ospitalità, è sempre un enorme piacere fare due chiacchiere con voi. Bene, grazie. Allora io inizierei dalla madre di tutte le battaglie, ovvero sia la difesa dell'ospedale Santa Croce, la sanità nel territorio fanese, la difesa di Santa Croce è stata una delle lotte con la quale l'abbiamo conosciuta, si è contraddistinta anche durante l'amministrazione, negli consigli, insomma è stato un argomento che lei ha mantenuto nel tempo vivo e vitale e anche in questa tornata elettorale, possiamo dire come cinque anni fa, ce lo ritroviamo a pie pari di nuovo come argomento centrale perché è uno degli assi portanti di questa campagna elettorale. Assolutamente sì. Perché? Perché Tarsi è così centrale la sanità? Bene, la sanità è un tema forte perché inevitabilmente interessa una grande quantità di persone, soprattutto di persone con difficoltà, insofferenza, malati, anziani e quindi è un tema vicinissimo alla gente. E hai detto giustamente, cinque anni fa ne parlavamo, oggi ne continuiamo a parlare e già questo ci dice la gravità della questione, perché dopo cinque anni tutta la situazione non solo è rimasta come la prima, è addirittura peggiorata, quindi ci ritroviamo a discutere di sanità, ci ritroviamo purtroppo ad ascoltare una quantità di falsità e di bugie che continuamente ci vengono propinate e quindi stanchi di dover sempre subire e abbassare la testa, noi decidiamo di, abbiamo deciso come Comitato Santa Croce, come Fano Città Ideali, abbiamo deciso di scendere in campo e la nostra scesa in campo è stata appoggiata da tutto il centro-destra, questo riprova del fatto che i temi sulla sanità da noi sempre sviluppati sono di fatto condivisi e condivisibili e rappresentano la verità, contrariamente invece a quanto le forze di centro-sinistra stanno cercando di raccontare alla gente e stanno cercando di convincere appunto su una serie di scelte che per la città di Fano non sono state un successo, sono state semmai un fallimento. Il Comitato Santa Croce nasce dieci anni fa e siamo in qualche modo gli eredi di quella che è stata la battaglia di Giancarlo Danna e abbiamo continuato a collaborare insieme, quindi arriviamo a queste elezioni con l'intento di continuare a confermare il valore della sanità pubblica e il valore di un ospedale fanese che possa servire l'intera vallata del Metauro. In questi anni noi abbiamo assistito invece a un continuo depotenziamento del nostro ospedale. Nonostante tutti i proclami, noi oggi abbiamo un ospedale che ha un servizio ridotto, un ospedale che ci porta delle liste di attesa addirittura di due anni per determinate specialità, abbiamo un progressivo svuotamento dell'ospedale di Fano a favore dell'ospedale di Pesaro. In questa avventura purtroppo spunta fuori anche, e forse, e anzi noi lo diciamo da sempre, è sempre stato l'obiettivo principale, spunta fuori la famosa clinica privata. E qui va raccontato alla gente la verità, perché la gente ascoltando poi le carte, e qui ho una serie di documenti, ascoltando il racconto di questi documenti poi capisce di fatto qual è la verità. Partiamo dall'esempio del reparto di ortopedia. Fano ha sempre avuto, storicamente, un reparto di ortopedia molto importante, che si ricorda le eccellenze di 20 anni fa. Era un reparto di ortopedia che attirava da fuori regione e quindi faceva mobilità attiva. Bene, quei 50 posti di ortopedia fanesi sono stati progressivamente ridotti, 50, 40, 30, 20, fin quando è rimasta solo l'ortopedia a Pesaro, che attualmente conta poco meno di 25 posti. Questo significa che per l'intera provincia, escluso Urbino, quindi Pesaro, più Fano e le rispettive vallate, abbiamo a disposizione 25 posti di ortopedia. Quotidianamente esistono, ci sono accessi superiori ai 25 posti, quindi si arriva anche a 18 accessi in più al reparto, per cui quel reparto è costretto a mandare le persone, i malati, i pazienti, fuori reparto, quindi da neurochirurgia, ginecologia, sparsi per l'intero ospedale San Salvatore. Mentre a Fano l'ortopedia non c'è più, ma attenzione, quei 50 posti di ortopedia fanesi spariscono da Fano e ricompaiono miracolosamente in una clinica privata. Quindi non possiamo dire, come sostiene Seri, che avremo due ospedali. Di fatto ciò che abbiamo tolto da uno l'abbiamo portato nella clinica privata. Che cosa succederà all'ospedale di Fano? Il protocollo d'intesa ce lo dice chiaramente un documento che è stato sottoscritto da Seri e da Ceriscioli. Casomai, e lo dico, casomai venisse costruito il nuovo ospedale, che attenzione noi non chiameremmo ospedale unico, sarà il nuovo ospedale di Pesaro, qualora venisse costruito il nuovo ospedale di Pesaro, a Fano rimarrebbe poco più di un servizio di poliambulatorio. Quindi, quando giochiamo sulla parola chiudere, bisogna che facciamo attenzione. È vero che l'ospedale di Fano non chiude il cancello, ma è vero che l'ospedale di Fano viene svuotato della maggior parte dei suoi servizi, fino a rimanere poco più di un poliambulatorio. Quindi, otorino sparirà, oculistica sparirà, ginecologia sparirà, la pediatria è già sparita, abbiamo soltanto pochi reparti, la urologia è già sparita. Io ricordo anche che nel 2012, quando nacque Marche Nord, che nasce, attenzione, con un obiettivo, quello di ridurre la mobilità fuori regione, di ridurre le liste d'attesa, bene, in quell'epoca si parlò di pari dignità tra i due ospedali. La cosa assolutamente non è stata, è stata una promessa disattesa, non mantenuta. Oggi noi non abbiamo pari dignità tra i due ospedali. Torno a parlare di Marche Nord, perché è un'azienda sanitaria che nasce con degli obiettivi e dopo anni non solo non ha rispettato gli obiettivi per cui è nata, ma addirittura ha visto peggiorare le condizioni, per cui le liste d'attesa si sono addirittura allungate. La mobilità passive è diventato un costo economico gigantesco per la regione Marche. Quindi noi diciamo che l'azienda sanitaria Marche Nord è fallimentare. Non si capisce perché si debba continuare a sostenere un'azienda pubblica con un tale deficit, non solo economico, ma anche politico. Perché chi ha voluto quell'azienda oggi manifesta tutta la sua fragilità politica e tutta la sua debolezza. Di bugie ce ne vengono raccontate molte altre. Ci viene detto, per esempio, che la nuova clinica privata convenzionata sarà una risorsa economica. Allora noi non riusciamo a capire in che modo la creazione di una nuova azienda, peraltro privata, che si contrappone economicamente ad un'azienda pubblica e quindi ne diventa un competitor, diventa comunque un avversario economicamente parlando e quindi eroderà prestazioni. Tenendo anche presente il fatto che appunto le condizioni economiche già di Marche Nord non sono favorevoli, noi stiamo dando l'avallo, noi no, il sindaco Seri sta dando l'avallo ad una situazione economica che eroderà le già scarse risorse di Marche Nord. Quando ci dicono porterà lavoro? Beh, dipende che tipo di lavoro. Noi sappiamo che una clinica privata può scegliere fuori da qualunque contratto i dipendenti. Quindi può diventare addirittura una facilitazione per qualche amicizia che abbia voglia e abbia necessità di inserire parenti e amici. Su questa argomentazione diciamo che passa una considerazione in tutta questa argomentazione imperniata sulla sanità, ovvero sia che la partita non si gioca a livello comunale, viene giocata a livello regionale, certe decisioni vengono imposte al territorio e l'amministratore locale non può far altro che a tortocollo subire questa decisione. È così secondo voi? Non è così? C'è una parte di verità e una parte invece che devo correggere. La parte di verità è legata al fatto che comunque le politiche sanitarie sono oggettivamente scopo e obiettivo della Regione. Ma la Regione ha comunque agito sempre con un elenco di documenti che se avessimo letto con attenzione come facevamo noi del Comitato quei documenti, avremmo da sempre capito qual era l'obiettivo sulla provincia di Pesaro. Allora, quando la Regione nel precedente piano aziendale va a scrivere che per quanto riguarda gli ospedali riuniti Marche Nord sono previsti ad integrazione della realtà di Pesaro Fano la realizzazione di una struttura unica per la copertura del bisogno di cura e assistenza a livello minimo di area vasta era già scritto sulla carta che di fatto tutti questi proclami sulle eccellenze e sul nuovo magnifico ospedale erano delle falsità perché la carta, la documentazione sulla carta diceva esattamente il contrario. Quel che è previsto per la nostra provincia è la copertura di assistenza a livello minimo. Bene? Quindi quando ci raccontano di grandi sorti della sanità provinciale di grandi eccellenze mentono sapendo di mentire. Tutto il percorso è stato un percorso di falsità che doveva coprire progressivamente il depotenziamento dell'ospedale di Fano a favore dell'ospedale di Pesaro. La situazione tra l'altro viene sempre nascosta dietro due leggi la legge Balduzzi e la legge Lorenzini e ci viene propinato continuamente questa falsità per cui avremmo un obbligo rispetto a quelle leggi di ridurre la sanità pubblica perché costosa per una serie di motivi. Allora a quel punto che si fa? Andiamo a confrontarci andiamo a confrontarci con le regioni e andiamo a vedere cosa succede cosa fanno gli altri. Allora gli altri fanno per esempio qualcuno dice perché le regioni del nord attivano cliniche private confondendo la Lombardia con l'intero nord Italia qualcuno forse la geografia la dovrebbe studiare meglio. Allora se è vero che la Lombardia ha il maggior numero di cliniche private è anche vero vi vado a leggere l'elenco a partire dal ventesimo posto cioè la ventesima regione italiana bene per presenza di cliniche private la ventesima è Val d'Aosta la diciannovesima è la provincia autonoma di Bolzano la diciottesima è il Friuli Venezia Giulia la diciassettesima l'Umbria interessante la sedicesima è la provincia autonoma di Trento la quindicesima la Toscana la quattordicesima la Liguria cioè ho elencato la maggior parte delle regioni del nord nelle quali dimostrano i numeri perché i numeri non mentono mai esiste un livello minimo di presenza di cliniche private ma al contempo queste regioni sono particolarmente virtuose dati del 2017 per esempio vado a leggere i dati della Toscana e che cosa c'è in Toscana? è una delle regioni con maggiore mobilità attiva cosa vuol dire? hanno poche cliniche private ma hanno molti pazienti che vengono da fuori regione allora chi ci vuole convincere del fatto che le cliniche private sono necessarie viene immediatamente smentito dai numeri andiamo in Romagna i dati di due giorni fa sole 24 ore che fanno un elenco impietoso della situazione sanitaria nazionale perché impietoso? perché di nuovo la provincia di Pesaro è al 97esimo posto su 107 province italiane per ricettività ospedaliera e per emigrazione verso le altre regioni 97esimo posto alla faccia dell'azienda Marche Nord tra l'altro la provincia di Pesaro è la peggiore delle province marchigiane se poi andiamo a vedere i dati della regione che confina con la nostra e quindi andiamo in Emilia ci accorgiamo che la provincia di Ravenna che non ha smantellato gli ospedali non li ha chiusi ma ha fatto la rete ospedaliera e quindi ha salvato un modello di sanità di prossimità cioè vicina alla gente la regione scusate la provincia di Ravenna è al settimo posto della graduatoria nazionale settimo posto settimo posto seguono Forlì e Bologna questo a dirci che quando il modello sanitario difende gli interessi della gente quando il modello sanitario è dalla parte della gente non è la presenza o l'assenza delle cliniche private che cambia la situazione ci ha portato Tarsi degli esempi virtuosi e ne prendiamo atto ma quindi in questi cinque anni l'amministrazione Seri che cosa ha fatto dove è stata deficitaria nella gestione di questa situazione ma anche di altre secondo lei per quanto riguarda il caso sanità sicuramente l'amministrazione Seri ha abbassato la testa e ha lasciato che la politica del PD regionale e provinciale prevalesse sugli interessi dei fanisi quindi tutte le volte che Seri ci viene a raccontare che in realtà non è lui il responsabile ma sono stati i suoi predecessori io vorrei ricordare che ci sono state delle possibili alternative a Muraglia che Seri in quanto assessore alla provincia aveva bocciato insieme a Minardi e insieme a Ricci Seri non è nuovo alla politica Seri viene da un percorso politico che negli anni passati ha comunque avvallato l'intero processo e Seri comunque è l'esponente di un centro-sinistra che insomma signori è lo stesso centro-sinistra che governa in regione quindi non è possibile essere d'accordo con la regione quando serve e prenderne le distanze per dire ma non è colpa mia il protocollo d'intesa che lui ha firmato non è un successo per la città di Fano non sappiamo per quali motivi Seri abbia ritenuto opportuno e considerarlo un vantaggio noi sappiamo bene invece che per la città di Fano è un forte svantaggio è un forte peso che ci porteremo nei prossimi anni a meno che io non abbia la possibilità di dimostrare quanto è forte per me questo tema e quindi nel momento in cui andrò a governare questa città io non firmerò l'accordo di programma che deve fare inevitabilmente seguito al protocollo d'intesa e quindi bloccherò il percorso perverso di questa di questa amministrazione in termini di sanità un'amministrazione che comunque ha lasciato molti vuoti ha lasciato molta delusione molta amarezza e in alcuni casi anche diciamo così qualche alterazione perché viaggiando girando per i quartieri abbiamo potuto ascoltare tante voci di fanesi scontenti noi alzeremo la testa noi vogliamo una città che non si accontenta noi vogliamo raddrizzare le spalle guardare in faccia le altre città vicine e dire le decisioni su Fano le prendiamo a Fano le decisioni su Pesaro le prendano i pesaresi noi non vogliamo più un PD regionale e provinciale che guidi la nostra città la nostra città ce la vogliamo guidare da soli e non vogliamo più un sindaco che abbassa la testa perché oggi il sindaco chiude metaforicamente è vero il cancello non è chiuso ma l'ha svuotato allora diciamo noi in questo momento abbiamo un sindaco che ha svuotato ha accettato di svuotare l'ospedale Santa Croce cos'altro può combinare nei prossimi cinque anni vogliamo anche svuotare Aset a favore di Marche Multiservizi vogliamo anche perdere la città in maniera definitiva e farla diventare una frazione un quartiere dormitorio pesarese noi diciamo no e quindi la mia idea è una città finalmente libera in attesa poi di un governo regionale che possa cambiare definitivamente gli orizzonti di questa città questa è la città ideale di luciatarsi è la città ideale di tanta gente non solo la mia di tutte le persone che fanno parte della nostra coalizione una coalizione che si è venuta creando e ha creato negli ultimi periodi specialmente una coesione particolare dal comune intento politico è nata l'amicizia ed è nata una carica positiva che ha visto coinvolgere tante persone che sono tornate alla politica dopo anni di disillusione e questo entusiasmo è la cosa più bella che poteva succedere in questa campagna elettorale Chiudo facendole un'ultima domanda per invitarla proprio a rivolgersi ai suoi elettori ai fanesi Lucia Tassi se la sente di portarsi sulle spalle alla città di Fano e perché? Allora è una domanda interessante Lucia Tassi porta nella città di Fano la sua identità di donna e quindi di persona determinata ma di persona determinata in quanto donna con la tenacia con la pazienza con la capacità di mediazione con il senso di concretezza che è tipico delle figure femminili io credo che sia un valore aggiunto senza nulla togliere all'operato degli uomini inevitabilmente però la politica in questo momento ha bisogno anche di avere un passo diverso ha bisogno di concretezza ha bisogno di obiettivi chiari ha bisogno di programmazione ecco cos'è mancato la nostra città una visione sul lungo termine una visione fatta di programmi di pianificazione di idee organizzate abbiamo assistito a sciatteria abbiamo assistito a progetti raffazzonati uno dietro l'altro cose insomma un'amministrazione adesso che fa acqua da tutte le parti a partire dalle bollette dell'ASET fino ad arrivare ai ponticelli di sabbia che non reggono questo non è il nostro modello di città noi abbiamo altri sogni ben diversi bene il tempo tiranno però ci ha consentito di conoscere in maniera un po' più approfondita uno dei candidati alla poltrona di sindaco per pochissimi giorni ci sarà l'Election Day e quindi abbiamo avuto il piacere di ospitare qui nei nostri studi Lucia Tassi per la coalizione di centro-destra grazie grazie a voi grazie sempre a me piace tantissimo riuscire a chiacchierare e soprattutto parlare con la gente perché se la gente non è informata rischia di fare scelte di cui poi si dovrà pentire ok grazie e grazie a voi soprattutto grazie a Lucia Tassi e a voi per essere stati insieme a noi in questo spazio di approfondimento arrivederci alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.